Una donna è stata trovata senza vita all'alba lungo via Fasana Ostia, intorno alle 5 del mattino. La vittima, Angelina Cristiane de Susa Soares, era una cittadina italo-brasiliana di 46 anni con precedenti legati alla droga. Sul luogo dell'incidente è intervenuta prontamente la polizia, che ha avviato le indagini sulla tragica vicenda. L'ipotesi investigativa principale suggerisce che la donna possa essere stata scaraventata dalla finestra di un edificio abbandonato nelle vicinanze. Il suo compagno, un uomo romeno di 41 anni, è stato detenuto per interrogatorio. È stato proprio lui a dare l'allarme al numero di emergenza 112. Le forze dell'ordine coinvolte nelle indagini sono la squadra mobile e il commissariato Lido. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, la coppia si trovava insieme all'interno dell'appartamento quando è avvenuto l'incidente. Attualmente sono in corso approfondite indagini per stabilire con precisione la dinamica degli eventi. Purtroppo, al momento dell'arrivo dei soccorsi, la vita della donna non è stata più recuperabile.